con un numero di stelle a 400 Filippo Cavallo da scuola ma poi Cavallo di sua proprietà ricordiamo che Filippo regalenta sia per la limita numero che per la limita numero che per la limita numero Cavallo Cavallo no mamma vai Filippo si si Aspetta Filippo aspetta aspetta ok ok bravo vai giù bravo ok bravo 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 all right bene bene tutto a me bravo 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 super vai 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 guarda il centro guarda il centro ok bravo guarda il centro bravo bravo vai così vai vai sentiti bravo 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 bravo